Buonasera, buonasera a tutte e tutti, benvenuti a questa iniziativa, a questa presentazione del primo numero della rivista Micromega, mi presento, sono Cinzia Sciuto, condirettrice della rivista, vi ringrazio davvero di cuore di essere venuti, mi dicono che abbiamo iniziato persino in anticipo rispetto agli standard palermitani, ma direi che la sala è piena e soprattutto rispetto alle persone che sono già arrivate da un po' è il caso di iniziare questo nostro incontro. Primo numero della rivista Micromega, un numero che non doveva neanche esistere. Chi di voi segue le vicissitudini, ha seguito le vicissitudini della rivista negli scorsi mesi, sa che a novembre, a ottobre-novembre, abbiamo inviato una lettera a tutti i nostri lettori dicendo che Micromega stava per chiudere, ed era assolutamente così. Dopo la chiusura da parte di Gedi due anni e mezzo fa, ormai quasi tre anni fa, abbiamo provato a rilanciare la rivista in maniera autonoma con grandissime difficoltà e siamo arrivati a un punto nel settembre scorso in cui ci siamo resi conto che non riuscivamo più ad andare avanti. Abbiamo tentato l'ultima carta, che era quella di rivolgerci ai nostri lettori chiedendo il loro sostegno. Era anche un modo, non solo per ottenere un sostegno materiale, ma era anche un modo per capire se servivamo ancora, se c'era qualcuno a cui Micromega sarebbe mancato se non ci fosse stato più, se c'era una platea a cui rivolgersi, perché una delle nostre paure era quella appunto che eravamo diventati inutili, irrilevanti per il nostro paese. La risposta è stata straordinaria, è stata molto al di là delle nostre aspettative, delle mie personali, io ero fra le pessimiste in redazione, c'era chi invece era ben più ottimista di me, è stata davvero straordinaria, abbiamo avuto un sostegno enorme, avevamo detto che saremmo andato avanti se avessimo raggiunto 5.000 impegni di sostegno, di abbonamento, di donazione, questi 5.000 impegni sono arrivati nell'arco di pochissimi giorni e da lì siamo dunque ripartiti. A quel punto ci siamo detti, beh, ma allora dobbiamo fare il primo numero dell'anno, che invece non avevamo neanche messo in cantiere, cosa facciamo? In realtà le idee erano già in circolo ed erano relative appunto legate, erano legate all'anniversario della nostra Costituzione, 75 anni della nostra Costituzione che sono stati nello scorso anno, per festeggiare i quali abbiamo organizzato un convegno a Fabriano in collaborazione con il comune di Fabriano lo scorso ottobre. Da quel convegno sono nate molte delle relazioni e dei testi che voi trovate in questo numero di Micromega, che trovate anche in questo bel banchetto curato dalla Feltrinelli di Palermo, che ringrazio, dove trovate anche altri numeri della rivista. La trama che attraversa tutto il numero di Micromega è l'idea che quella che il giurista austriaco Hans Kelsen chiamava la Grundnorm, cioè la norma fondamentale che non è la Costituzione, ma la norma fondamentale che dà validità ad una Costituzione ed è un fatto. Il fatto su cui si regge la nostra Costituzione, il nostro convivere insieme, è la resistenza antifascista. È questo fatto storico che ha determinato le condizioni che poi hanno condotto alla scrittura della nostra Costituzione. C'è chi dice che, chi sottolinea che la parola antifascismo, antifascista, non compare esplicitamente nella nostra Costituzione, così volendo sottintendere che non è in realtà così centrale. Ma come molti degli interventi in questo volume sottolineano, la parola antifascismo non è espressamente indicata nella nostra Costituzione, perché in realtà l'antifascismo trasuda da ogni singola riga di questa Costituzione. Molti interventi sottolineano come quasi tutti gli articoli sembrino, come dire, l'antitesi del fascismo in quasi ogni espressione. Devo dire, con una parentesi sull'articolo 7, su cui non apriamo una discussione, nell'articolo 7 è quello che accoglie il concordato con la Chiesa Cattolica nella nostra Costituzione. Tra l'altro domani cade l'anniversario della modifica del concordato nell'84, ma chiudiamo questa parentesi. Dicevo, l'antifascismo che permea ogni singola riga di questa Costituzione, a partire dal primo articolo, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, e ricordiamoci che il fascismo nacque esattamente prendendo di mira i sindacati, i lavoratori, i diritti dei lavoratori. Il sottotitolo di questo volume è Passato e futuro di una lotta quanto mai attuale. Pensando agli attacchi ai lavoratori che caratterizzarono gli inizi del fascismo, non possiamo non ricordare l'assalto alla sede della CGL un paio d'anni fa, assalto per il quale sono stati condannati di recente due esponenti di Forza Nuova, confermando dunque la matrice fascista di quell'assalto. Quando lavoravamo al volume dicevamo, vabbè, però certamente di straordinaria importanza, però forse non di grandissima attualità. E poi, mentre davamo alle stampe questo volume, ad H. Larenzia abbiamo assistito allo spettacolo di una adunata neofascista che, con la scusa di una commemorazione, ha messo in scena appunto una vera e propria adunata neofascista, il che quindi ci ha confermato della necessità di questa scelta, per ribadire che cosa? Una cosa che dovrebbe essere banale, e cioè che i valori antifascisti che impregnano la nostra Costituzione dovrebbero essere la precondizione condivisa da chiunque si riconosca nella nostra cornice repubblicana. E invece abbiamo oggi, alla Presidenza del Consiglio e alla Presidenza del Senato, seconda carica dello Stato, lo ricordo, due esponenti di un partito che tiene ancora la fiamma tricolore nel suo simbolo e che non riescono a dirsi antifasciste, cioè questa difficoltà a pronunciare la parola antifascismo. Io non voglio prendere molto tempo nella mia introduzione, voglio solo ricordare, dire due parole ancora sul volume, su come è costruito innanzitutto. Nel volume trovate anche una perla, sette lettere inedite di Norberto Bobbio al nostro fondatore e direttore Paolo Flores d'Arcais, con cui Bobbio ha intrattenuto un carteggio, un carteggio vero di quelli di una volta, cioè per lettera fisica scritte, molte scritte a mano, alcune scritte a macchina. Sono lettere che risalgono gli anni 90, subito i primi anni 90, subito dopo quindi la caduta del muro di Berlino, l'inizio di quei movimenti di società civile che confluirono poi nei girotondi. Sono delle perle di lungimiranza politica, quelle di Norberto Bobbio. Ma volevo dirvi qualcosa sulla struttura del volume, perché abbiamo pensato di organizzare il volume, oltre alla prima parte con questi principi generali che informano tutto il volume, lo abbiamo organizzato seguendo la scansione della nostra Costituzione stessa. Quindi voi troverete una prima sezione dedicata ad alcuni dei dodici principi fondamentali, in particolare quello sul lavoro, l'articolo 1, l'articolo 3 sull'uguaglianza, in particolare l'uguaglianza donne-uomini, il ruolo delle donne nella nostra Costituente è stato centrale, l'articolo 9 di cui oggi si parlerà, quello che tutela il paesaggio e l'ambiente e che è stato di recente modificato. Poi c'è una seconda sezione dedicata ai diritti e doveri dei cittadini e qui ci si occupa di libertà dell'informazione, di salute, di salute pubblica, di scuola e di fisco, e di fisco inteso come dovere di partecipazione dei cittadini alla fiscalità generale. E infine c'è una terza sezione dedicata a temi più istituzionali sull'ordinamento della Repubblica di grandissima attualità, perché si affrontano le questioni dell'autonomia differenziata e del premierato. Io non entro nel merito di nessuno di questi temi perché saranno oggetto degli interventi che mi seguiranno. Darò la parola, mano a mano che do la parola alle diverse persone qui presenti, magari le presento, così evitiamo queste lunghe presentazioni di tutte insieme. Ringrazio in particolare Claudio Oriolo, e quindi lo presento prima, anche se poi interverrà più tardi, perché è stato lui che ha voluto e organizzato questa iniziativa, però la presentazione vera la faccio dopo. Invece do subito la parola a Laura Di Martino, che è la responsabile della Camera del Lavoro di Termini Merese, componente della segreteria CGL di Palermo, è stata educatrice professionale presso la comunità del Centro Giustizia Minorile Malaspina, si è occupata di tantissime questioni relative sia al lavoro sia ad altre questioni di interesse pubblico, non stiamo a raccontare troppo della vita di ciascuno. Vi ringrazio per l'attenzione e do la parola a Laura. Grazie. Allora, intanto buon pomeriggio a tutti e a tutti e grazie Cinzia e grazie a Micro Mega e l'Abdac per aver coinvolto la CGL Palermo e il Forum Sanità Pubblica Palermo, è provincia di cui oggi rappresento anche una delle portavoci. La Costituzione è nata dalla resistenza nel DNA della nostra CGL, è la rivendicazione dell'applicazione dell'articolo 32 della nostra Costituzione, ha dato vita al Forum Sanità Pubblica Palermo e provincia. Io ho letto con molto interesse l'intero volume e l'ho apprezzato tantissimo. Lo definisco anche un vero e proprio manuale che ripercorrendo la storia ci porta e ci restituisce un quadro chiaro del pericolo che abbiamo di un ritorno al passato che stiamo contrastando. Oggi è davvero un piacere condividere queste riflessioni con compagni di viaggio e di lotte come Claudio, come Antonella e soprattutto con una delle poche voci che oggi in Senato si sta ponendo a quella che è il chiaro disegno di manomissione della nostra Costituzione come Roberto Scarpinato. L'attacco alla nostra Costituzione che è per natura antifascista e antimafia viene proprio da chi dovrebbe garantirla, ma questo governo di destra e a stampofascista sta cercando davvero di manometterla portandoci a un serio punto di non ritorno, in cui quella con di cui ci parla nell'introduzione Paolo Flores d'Arcais, quel con che dovrebbe tenerci insieme da concittadini, verrebbe definitivamente meno. la Costituzione è messa in discussione fin dalla sua nascita e i diritti che contiene la nostra Costituzione sono da tempo attaccati e io parto proprio dall'articolo 1, l'articolo 1 che indica nel lavoro il fondamento della nostra Repubblica. Le politiche neoliberiste invece da anni hanno portato a considerare il lavoro una merce, è stato svilito oggi quello che è il valore del lavoro. Sono state introdotte tantissime tipologie contrattuali che nel nome di una quasi mai inesistente autonomia, flessibilità, celano un lavoro dipendente togliendo diritti essenziali a lavoratrici e lavoratori. Oggi nello stesso posto di lavoro noi troviamo lavoratori con datori di lavoro diversi, con contratti diversi pur svolgendo la stessa mansione, quindi con diritti diversi e per noi questo è inaccettabile. Per questo abbiamo presentato, raccogliendo milioni di firme anni fa, una proposta di legge o meglio la carta dei diritti universali del lavoro e il nuovo statuto dei lavoratori, perché riteniamo che i diritti devono stare in capo alla persona e non alle tipologie contrattuali adottate ed applicate. Ma non è la persona nell'interesse e i bisogni delle persone, soprattutto dei più fragili, nell'interesse di questo governo. La risposta di questo governo, infatti, di fronte alla nostra richiesta di cancellare la precarietà, di mettere al lavoro il lavoro come valore al primo posto, è stata quella di liberalizzare i contratti a termine, gli appalti, i subappalti. Nessuna risposta per i pensionati, per i giovani, per i cittadini, per i più fragili. Al contrario, si continuano a fare regali agli evasori fiscali. Continuano ad esserci condoni in questo Paese, quando invece è proprio dalle risorse dell'evasione fiscale che potremmo andare a finanziare i veri bisogni di questo Paese, a partire dalla sanità e dall'istruzione. In questo modo si vanno svilendo sempre di più gli articoli contenuti nella Costituzione che purtroppo non sono oggi applicati. Parlo dell'articolo 3, dell'articolo 2, dell'articolo 5 e del 36 in particolare, rivolgendoci proprio al benessere della persona, del lavoratore, ma non è appunto la persona che è nell'interesse di chi governa, neanche oggi. I diritti, se restano fermi sulla carta, muoiono. Incipitta di questo volume, citando ovviamente Piero Calamandrei, e che ho ritrovato, devo dire personalmente in ogni singolo articolo. La sanità oggi è morente proprio perché è morente il suo caposaldo, che è l'articolo 32 della nostra Costituzione. Anni e anni di malapolitica, malaffare, hanno sostituito il diritto alla salute con il profitto, trasformando la sanità in una vera e propria azienda. Lo Stato dovrebbe essere il garante della sanità pubblica, ma a partire dagli anni 90 il liberismo arriva anche in sanità. Addirittura lo Stato inizia a finanziare il privato. Il diritto quindi viene trasformato in un diritto potestativo. E nel tempo, proprio quelle che devono essere i governi, diciamo, di centrosinistra, hanno attuato una serie di riforme che hanno portato al vero e proprio smantellamento dell'articolo 32. Parliamo del titolo quinto, della riforma Bindi con l'introduzione dell'intramenia, piuttosto che il Jobs Act. Oggi siamo di fronte a una situazione drammatica, in cui il sistema sanitario nazionale, nato nel 78, è veramente collassato. E siamo in una tempesta perfetta, noi diciamo, perché sottofinanziamento, carenza di personale, blocco delle assunzioni, facoltà di medicina a numero chiuso, esternalizzazioni. Questo ovviamente si traduce con liste d'attesa infinite, pronto soccorsi intasati, ospedali sguarniti e lo vediamo soprattutto nelle aree interne e nelle aree montane, dove a questo si sommano quelli che sono i problemi legati alla viabilità distestata, alla carenza anche di collegamenti con la città metropolitana, dove si concentrano le specializzazioni. C'è un diritto che spesso definisco diritto umano. Oggi il diritto a curarsi, il diritto alla salute viene negato nel nostro Paese. Soltanto chi è nelle condizioni di poterselo permettere economicamente, rivolgendosi al privato, oggi si può curare. E questo è inammissibile, inaccettabile, anche per quello che stanno vivendo tutti i lavoratori del settore. I lavoratori vivono in condizioni veramente precarie e stiamo assistendo a una migrazione anche dai lavoratori dal pubblico al privato, proprio perché lì si guadagna di più e si lavora meno. Ma noi teniamo i concorsi bloccati, non facciamo assunzioni, però importiamo medici anche da Cuba e allo stesso tempo facciamo crescere quella che è la spesa statale piuttosto che regionale, perché ultimamente si chiamano i medici a giottone che costano di più o ci affidiamo alle agenzie per il lavoro per reclutare personale e specializzato, con quello che ne comporta, perché spesso non sono gli stessi pazienti che seguono, gli stessi medici scusate, che seguono i pazienti nel vario decorso. Quindi anche problemi legati diciamo a malasanità piuttosto che agevolare anche quelle che sono le infiltrazioni mafiose con appalti, subappalti e esternalizzazioni. E se la situazione è drammatica in tutto il paese è veramente tragica nella nostra regione e nella nostra provincia, dove addirittura in questo momento è impossibile prenotare una visita. Andando ne cupo la risposta è non c'è posto, oppure i tempi sono veramente assurdi, parliamo anche di un anno per visite urgenti e specialistiche. E allora questo non è più tollerabile per la nostra democrazia. Non è tollerabile che quelli che sono, che l'essenza del servizio sanitario nazionale, che l'uguaglianza, l'universalità e l'equità siano stati messi veramente in discussione. I famosi LEA, di cui tanto si parla in questo periodo, i livelli essenziali di assistenza, che sono definiti solo per la sanità, dalla prevenzione alla diagnostica, alla terapia, alla riabilitazione, già non sono garantiti oggi, soprattutto nelle regioni del sud. Risulta già una fortissima migrazione di abitanti soprattutto del sud che si rivolgono al nord o al centro nord per delle visite specialistiche. Bene, il progetto di autonomia differenziata metterebbe la pietra tombale sul servizio sanitario nazionale pubblico. Questo progetto che noi definiamo scellerato va a sancire semplicemente che nei territori, nelle persone saranno più uguali, quindi modificando la nostra Costituzione. Nei fatti si dà alle regioni che stanno bene la possibilità di poter garantire servizi, perché dandone la possibilità alle regioni di legiferare su ben 23 materie, e questo quindi significa su tutto, salute, lavoro, scuola, sviluppo, mobilità, trasporti, energia, va da sé che soltanto le regioni che sono nelle condizioni di poterlo fare offriranno servizi in più. Autonomia differenziata e autonomia subordinata ai LEP, questi livelli essenziali di prestazione che ancora né sono stati definiti, né sono stati individuati, né tantomeno finanziati. Si andrà volta in volta di accordi tra Stato e Regione. Quindi ci troviamo di fronte a un disegno di legge che porterebbe a 20 Stati nel nostro Paese, con l'introduzione di un'imposizione fiscale su base regionale e non nazionale, reintroduzione di gabbie salariali, differenze e quindi messe in discussione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, anche le scuole si differenzierebbero sulla base della disponibilità economica delle regioni. Diversi ordinamenti scolastici, diverse le funzioni all'ordinamento educativo, del personale, diversi programmi di studio. Quando è la scuola che deve unire il nostro Paese? È la scuola che porta, diciamo, avanti al nostro Paese e sulla scuola si deve invece al contrario investire. Noi siamo già in una situazione di diseguaglianze. Il nostro Paese è già abbastanza diviso e frantumato. Non abbiamo le stesse infrastrutture del Nord e mi riferisco sia alle infrastrutture sociali che alle infrastrutture materiali. Allora ci dobbiamo veramente continuare ad impegnarci per smantellare l'idea di questo governo. Questa legge di questa autonomia differenziata va anche contro quello che è il Piano Nazionale di Ripresa e Riesilienza. Mentre il PNRR indica a tutti i Paesi di togliere con le sei missioni le diseguaglianze che esistono e che sono state conclamate e quindi accertate, le diseguaglianze tra i vari Paesi. Il PNRR nasce proprio dopo la pandemia per risollevarsi dalla crisi della pandemia e per dare una possibilità di risollevarsi. Ma è stato dimostrato che non sia neanche una capacità di stare dentro quello che è il progetto europeo. Regioni comuni che non hanno partecipato a bandi e alla possibilità del PNRR. Mentre ritornando alla questione della sanità noi siamo di fronte con la missione 6 a nascite di strutture come case della comunità, ospedali di comunità, centri operativi territoriali che saranno semplicemente nuove cattedrali nel deserto perché abbiamo un finanziamento soltanto sulle strutture ma nessun finanziamento sulle risorse umane. Quindi ci chiediamo chi andrà a lavorare in queste strutture. Saranno un altro regalo al privato perché questo è quello che si prefigura in questo momento. Noi continueranno a contrastare con ogni mezzo democratico possibile come abbiamo fatto con gli altri governi, l'abbiamo fatto con Renzi, l'abbiamo fatto con Berlusconi e non escludiamo altre mobilitazioni e scioperi come abbiamo fatto negli scorsi mesi. Il 2003 ci ha visto come cigelle infatti impegnati contro le manovre, contro la finanziaria in modo non sempre unitario e con l'associazionismo dando vita al movimento della via maestra. Noi abbiamo raccolto migliaia di firma già contro l'autonomia differenziata, il camper dei diritti della FLC Cigelle che è la nostra categoria della conoscenza sta girando tutta l'Italia con lo slogan stesso paese stessi diritti contro l'autonomia differenziata. Si devono prima ridurre le diseguaglianze che ci sono in questo paese e infatti in antitesi a quello che è il progetto divisivo e che mira a togliere sempre più diritti ai lavoratori e ai cittadini, il 7 ottobre con la grande manifestazione a Roma siamo riusciti a riempire Piazza San Giovanni come non si vedeva da anni insieme a 200 associazioni. Anche in quella circostanza in antitesi appunto a quello che è il progetto di questo governo ne abbiamo chiesto che si deve ripartire dal lavoro. Chiediamo un lavoro di qualità, un salario minimo per legge sotto il quale non si può andare. Chiediamo una legge sulla rappresentanza per mettere fine ai contratti private. Chiediamo salute e sicurezza sui posti di lavoro perché è inaccettabile che ogni giorno si continui a morire sui posti di lavoro. E per questo è il 21 prossimo. Le nostre categorie, la fila e la fiomma hanno indetto lo sciopero. Chiediamo un welfare come presupposto di sviluppo, un ambiente sano, politiche di pace, intese come ripudio della guerra e di qualsiasi altra forma di violenza. Chiediamo quindi l'applicazione della nostra Costituzione perché la via maestra, come diciamo con la manifestazione, abbiamo detto con la manifestazione del 7 ottobre, come stiamo continuando diciamo con il movimento che si è creato. Per noi appunto la via maestra è la Costituzione, nella Costituzione che ci sono le risposte a tutti i problemi di questo Paese. Ed è proprio col movimento della via maestra che continueremo la nostra mobilitazione. Noi ci siamo rivisti a Roma il 3 febbraio appunto con 200 associazioni. Ci rivedremo il domazzo prossimo per definire le modalità con le quali proseguire la mobilitazione a partire dal contrasto all'autonomia differenziata al premierato. Altra norma che con l'elezione diretta del capo di governo va a ridurre gli spazi di partecipazione democratica, rompendo il rapporto tra rappresentanza e governo e quindi mettendo anche in discussione il modello sindacale di rappresentanza, di bisogni e interessi collettivi. Autonomia differenziata e premierato sono due facce della stessa idea del Paese, fondata su disermetazione, individualismo e competitività. Noi ci opporremo a questi disegni di legge che mettono in discussione la centralità del Parlamento, l'indipendenza della magistratura, la divisione e l'equilibrio dei poteri, il modello sindacale, la libertà di aggregazione e sciopero, il diritto di informazione. La nostra è un'idea totalmente alternativa. La nostra è un'idea di un'Italia, di un Paese fondato appunto sul lavoro, di un Paese dove l'alternativa è la rappresentanza, la coesione, la solidarietà e la partecipazione e metteremo in campo tutto quello che è il nostro possesso, tutte le modalità democratiche per cercare di porre fine e arginare quelli che sono quello che è il disegno di questo governo. Siamo pronti ad arrivare laddove autonomia differenziata e premierato dovessero essere legge, siamo pronti ad arrivare anche al referendum, un referendum abrogativo. Mentre stiamo valutando anche la possibilità di legge e di iniziative popolari per quanto concerne welfare e sanità, lavoro contro licenziamenti, quindi contro il Jobs Act e di questo discuteremo il 3 marzo appunto a Roma. Come si traduce questo sul territorio? Stiamo traducendo questo a Palermo nella nostra provincia con la rete palermitana per la difesa e per l'applicazione della Costituzione e quindi vedremo come operativamente portare avanti delle lotte che sono necessarie per evitare appunto quello che è il ritorno al passato, quello che è il ritorno al passato dove appunto avevamo diciamo solo al potere e non c'era libertà, dove vigeva appunto il fascismo. Continueremo con il forum sanità pubblica Palermo e provincia con il quale appunto chiediamo che la sanità deve essere pubblica, continueremo con la nostra azione di denuncia e con la nostra azione di protesta in cui chiediamo anche diciamo di capire come sono spesi i soldi oggi nel privato. Noi in Sicilia abbiamo un aggravante, abbiamo una classe dirigente che è veramente soltanto all'altezza di mettersi. Siamo ancora in attesa di essere ricevuti dal Presidente Schifani proprio per discutere di quella che è la sanità nella nostra regione e vogliamo appunto capire perché si continua a finanziare il privato e capire come sono stati spesi i 25 milioni di euro che hanno diviso equamente tra pubblico e privato per smaltire le liste d'attesa ma siamo di fronte anche a quello diciamo a una vera e propria vergogna che abbiamo denunciato con il forum perché abbiamo assistito soltanto a uno spartimento di poltrona da amici a partiti e non assolutamente una discussione che pensa al benessere collettivo dei cittadini. Continueremo anche col coordinamento sociale antimafia perché leghiamo la lotta per i diritti alla lotta contro la mafia. Per noi lotta per la sanità, lotta per un lavoro, lotta per appunto i diritti significa anche lotta contro la mafia e continueremo perché anche col Movimento per la Pace, per i diritti dei migranti ci sono tantissimi spazi collettivi di rivendicazione in questa città. Noi pensiamo che sia il momento di fare in un certo senso sintesi perché tutti i movimenti chiedono l'applicazione della nostra Costituzione quindi si tratta di tradurre adesso questi movimenti anche in comitati, comitati cittadini in cui dobbiamo elaborare proposte e rivendicazioni ma soprattutto dobbiamo essere pronti a riportare le persone a votare. In un momento davvero complicato in cui il 50% della popolazione non va a votare. Inviteremo quindi al più presto tutte le associazioni per capire come andare avanti contro questo governo e contro queste politiche che vorrebbero farci tornare diciamo al passato. I nemici della Costituzione appunto esistono contestualmente dalla sua nascita a partire da chi l'ha subita, da quei fascisti che continuano ad esserci come ricordavi tu nella tua introduzione in quegli assalti che abbiamo diciamo anche subito alla Cigelle ma che per noi non sono un semplice attacco alla Cigelle. Sono un attacco a tutto il mondo del lavoro, un attacco alla Costituzione, un attacco alla Repubblica e non è un attacco appunto soltanto diretto alla nostra organizzazione sindacale. Il movimento dei lavoratori insieme alla Cigelle, il movimento della resistenza lo ha sconfitto il fascismo diciamo in questo paese riconquistando la democrazia. Adesso è il momento davvero che tutti insieme con una lotta collettiva unendoci di fronte a quel disegno disgregativo di questo governo che mira soltanto a dividere il paese rispondiamo unendoci per scongiurare un ritorno al passato e lo dobbiamo davvero a tutti coloro che hanno lottato perdendo la vita per la nostra libertà, per la nostra democrazia e per la Costituzione. Grazie mille Laura che ha messo insieme tanti temi diversi perché i temi si tengono, perché i temi si tengono tutti uno con l'altro. Io soltanto una piccolissima osservazione che poi forse Claudio non so se parlerai anche di questo nel tuo intervento dopo sulla questione dell'autonomia differenziata, questi famosi LEA, LEP eccetera. Io non entro nel merito, non sono una giurista, quindi non entro nel merito. Dal punto di vista concettuale però l'idea che si dice vabbè prendiamo un minimo che vada bene per tutti e poi chi ha i soldi si cura meglio, fa meglio, che è un'idea totalmente opposta allo spirito costituzionale che prevede invece che si vada avanti tutti perché per esempio nella sanità che cosa vuol dire livello minimo di prestazione? È chiaro che non esiste un minimo di prestazione, esiste la cura, tutti i cittadini hanno diritto al meglio che lo standard scientifico, tecnologico e medico al momento offre. Quello che, non so, in gravidanza prima non c'era l'ecografia, non c'era, non è che era riservata a chi se la poteva permettere, non c'era e basta. Una volta che c'è la devono avere accesso tutti. Quindi questa idea concettualmente, questa idea che esiste, una parte di popolazione che si deve accontentare del minimo, poi parliamo del fatto che anche questo minimo non è neanche quello garantito, ma solo dal punto di vista concettuale che qualcuno si debba accontentare del minimo, mentre altri che hanno le risorse possono curarsi meglio e avere accesso a strutture migliori, fa un po' pensare. Do la parola a Antonella Leto che ci porterà in un'altra parte della nostra Costituzione. Antonella è restauratrice dei beni culturali presso la galleria regionale di Palazzo Abatellis, è un ambientalista del forum italiano Movimenti per l'Acqua, cofondatrice del forum siciliano Acqua e beni comuni e quindi ci parlerà, immagino, di tutto quello che ha appunto a che fare con i beni comuni, in particolare con un focus forse sull'articolo 9. Forse una delle modifiche più belle della nostra Costituzione negli ultimi anni. Prego Antonella. Grazie, grazie mille, grazie per questa occasione che Micromega ci offre di tornare a parlare della nostra Costituzione e, ahimè, di tornare a riunirci per prepararci a difenderla per l'ennesima volta, vorrei dire. La Costituzione, diciamo, non è moderna, è modernissima, è proiettata nel futuro in questi tempi che sono veramente oscuri, quanto mai, contiene dei principi che sono così forti, quelli dell'uguaglianza, della democrazia, dei diritti per tutte e tutti, del proiettarsi verso un mondo giusto e uguale che contiene l'antifascismo nella sua struttura portante, perché è evidente che sono tutti principi contrari a quelli che il fascismo, quando si manifestò, produsse, completando, diciamo, con la Seconda Guerra Mondiale il suo percorso e la Costituzione contiene tutti i principi invece di uguaglianza e di rispetto di tutte le diversità che compongono la società. La Costituzione al suo interno contiene la possibilità di essere cambiata e noi abbiamo avuto nel 2022 due bellissime modifiche della Costituzione. L'articolo 9, nei principi fondamentali, è l'articolo 41. Ma voglio fare un passo indietro prima di arrivare a questi articoli. Io parlo qua per il forum siciliano dei movimenti per l'acqua, sono un ambientalista, ma sono un attivista anche della rete rifiuti zero, sono una componente dell'AMPI, quindi una partigiana della Costituzione, ho fatto parte di tanti movimenti civili e sociali. Quella del forum dell'acqua, il forum italiano e il forum siciliano, è un movimento particolare perché apposto, fin dalla sua Costituzione, parliamo di quello siciliano nel 2006, quello italiano poco prima, apposto all'intero Paese, in maniera molto forte, delle questioni che erano già, diciamo, contenute nel dibattito pubblico a livello nazionale e a livello globale. Il tema dell'acqua pubblica, come l'abbiamo definita, diciamo, in forma di slogan, e cioè il tema di combattere l'appropriazione da parte del mercato, da parte delle multinazionali, delle holding, della finanziarizzazione, diciamo che è globale, che riguarda ogni cosa, compresa la sanità, come vediamo, come abbiamo visto, è un tema che riguarda il modello di sviluppo di questo Paese e più in generale, insomma, dove va l'Europa e il resto del mondo. Noi siamo in una fase in cui, diciamo, raggiungiamo picchi di esasperazione rispetto alla privatizzazione dei beni pubblici essenziali. Il forum dell'acqua e dei beni comuni ha posto con grandissima forza questo tema. Il tema che sui servizi pubblici essenziali, quindi sulla gestione dell'acqua, ma anche dei rifiuti, ma anche dell'energia, ma anche dei trasporti, cioè di tutti quei servizi di cui i cittadini non possono fare a meno, perché tolta scuola e sanità, la gente ha bisogno di cibo sano e poi ha bisogno dell'acqua, ha bisogno di questi servizi essenziali. Che questi servizi andassero per legge, come allora voleva il governo Berlusconi, sul mercato e diventassero oggetto della finanziarizzazione, poneva proprio un tema molto forte che riguardava il modello di sviluppo. Questo modello di sviluppo è stato contrastato utilizzando, come dire, l'articolo 1 della Costituzione. L'articolo 1 dice che la sovranità appartiene al popolo che la esercita secondo le forme e i limiti contenuti nella Costituzione stessa. Quali sono le forme attraverso cui il popolo può esercitare le sue prerogative? Le proposte di legge di iniziativa popolare e i referendum abrogativi, perché come sappiamo quelli propositivi non sono previsti. Noi come form abbiamo proposto una legge nel 2006 di iniziativa popolare per la ripubblicizzazione delle risorse idriche, che giace tutt'oggi in Parlamento, nei cassetti della Camera, è stata ad ogni legislatura da quella data in poi riproposta e riconservata. abbiamo promosso nel 2011 un referendum popolare, quello sull'acqua bene comune, che andava tra l'altro di pari passo, quel referendum sul legittimo impedimento e contro il nucleare, che abbiamo portato avanti insieme come movimenti ambientali e sociali, a livello nazionale e a livello regionale e che hanno raccolto il maggior numero di adessioni a livello di firme che le hanno promosse, a livello di italiani che sono andati a votare, a livello di sì per il referendum, sopra il 90%, 98,9% addirittura in Sicilia per l'acqua pubblica. E questo esercizio di democrazia si è rivelato vano, perché la Costituzione è scavalcata nei fatti, per via di leggi ordinarie, per via di decreti. Allora, neanche un mese dopo la vittoria del referendum del 2011, il governo ebbe l'ardire di riproporre la privatizzazione, fu la Corte Costituzionale a dire che non si poteva neanche un mese dopo riproporre l'obbligo di privatizzare i servizi pubblici locali. Ma in questi anni, malgrado come movimenti civili e sociali, noi abbiamo ottenuto botta costantemente. Faccio un piccolo esempio per stare in Sicilia. Noi come Forum Siciliano, assieme al referendum, abbiamo proposto la prima e unica proposta di legge e di iniziativa popolare e dei consigli comunali, che è approdata al Parlamento regionale, che è stata discussa per due legislature, prima sotto il governo Cuffaro, che poi è decaduto per i noti problemi, poi Lombardo, che è decaduto per gli stessi problemi, poi Crocetta. Io sono stata rappresentante dei promotori per questa legge che ha rappresentato per la Sicilia, dopo il movimento contadino, la più alta adesione civile e sociale, perché non solo i comitati in tutta la regione, ma 135 comuni, cioè una rappresentanza assoluta della maggior parte dei cittadini siciliani hanno promosso quella legge. Siamo riusciti, attraverso mille peripezie, a farla approvare nel 2015 al governo Crocetta. La legge resta a tutt'oggi disattesa da tutti i governi che si sono susseguiti, non solo, ma si continua a andare verso una privatizzazione spinta del servizio idrico e non solo in Sicilia contro legge, perché ignorando articoli di una legge che è tuttora vigente, perché non sono riuscita a brogarla, anche se ci sono stati diversi tentativi di farlo, è in una situazione come quella che viviamo oggi. La Sicilia, vi ricordo, che è stata dichiarata zona rossa per l'emergenza idrica, per la calamità naturale. Noi abbiamo, siamo in una condizione di siccità estrema a febbraio, abbiamo il 90% di più velocità in meno. Non so come arriveremo, non dico all'estate, ma già al mese prossimo, perché siamo già in carenza idrica spinta, e si dichiara la calamità naturale quando non si dice e non si cercano i responsabili di una calamità che di naturale non ha niente, perché i commissari per l'emergenza idrica sono stati nominati, dopo il primo commissario che lo faceva a titolo gratuito e che scoprì che l'acqua in Sicilia c'era, bastava rimettere in piedi e fare funzionare le dighe che erano state costruite con la Cassa del Mezzogiorno, e il secondo che buttò il piano Iucci fu un tal signor Cuffaro, che da allora da commissario all'emergenza idrica fino ad oggi, con tutti gli altri presidenti della regione che sono stati altrettanto nominati commissari all'emergenza idrica, non sono riusciti a spendere un euro di fondi pubblici che esistevano per le reti e le infrastrutture, ma sono riusciti a far uscire dalle Cassi della regione decine e decine se non centinaia di milioni di euro privatizzando l'acqua, quella poca che c'era, privatizzando il sovraambito siciliacco e dandola a una multinazionale, facendo leggine affinché costi che erano stati dichiarati illegittimi sul costo dell'acqua grezza per via di sentenze del TAR e del CGA venissero aggirati attraverso leggine che consentivano invece di ratificarli come legittimi, eccetera. Allora, non c'è nessuna emergenza e non c'è neanche, come dire, la capacità di capire che siamo in una fase della storia della nostra regione, del nostro paese, del pianeta, in cui l'emergenza climatica non è un'emergenza, è un dato di fatto che va accolto nel PNR, una di quelle R, è la resilienza. Se noi non ci adattiamo e non mettiamo in atto tutte le misure necessarie a fronteggiare quelle che sono le emergenze, l'esicità come le alluvioni, come i disastri ai quali andiamo incontro in maniera velocissima, non avremo più un pianeta sul quale vivere come razza umana, il pianeta continuerà a vivere. Siamo noi che ci stiamo auto estinguendo, perché abbiamo sposato un modello liberista incapace di spendere il denaro pubblico, il nostro denaro, per aiutare noi stessi e soprattutto i nostri figli a sopravvivere. E allora noi torniamo a difendere la Costituzione, perché queste modifiche, come già furono quelle renziane, anche se per vie diverse, diciamo e toccando articoli diversi, puntano a una cosa, ad accentrare i poteri all'esecutivo, sempre in maniera più verticale, a annullare la partecipazione democratica e a immiserire il ruolo dei cittadini che diventano semplicemente dei clienti dei servizi che stiamo vendendo a tutte le multinazionali alle quali privatizziamo la nostra esistenza. Voglio citare invece il fatto che non solo la Costituzione in sé è già modernissima e basterebbe applicarla per costruire un mondo che ci aiuti a attraversare questi momenti brutti e difficili, ma è stata modificata in maniera positiva come noi chiedevamo quando combattevamo le riforme costituzionali in Renzi, abbiamo costituito il no dei territori, tutti i movimenti civili e sociali italiani hanno fatto una campagna come no dei territori, insieme al CDC, il Comitato di Democrazia Costituzionale, assieme all'AMPI, eccetera. E, dicevamo, la Costituzione può essere cambiata per essere adeguata alle emergenze di oggi, quelle climatiche in primis, che certamente i padri costituenti non potevano prevedere. Queste modifiche sono state fatte e sono quelle all'articolo 9 e all'articolo 41, l'8 febbraio del 2022, e ve le leggo perché non voglio sbagliarle. L'articolo 9, nei Principi Fondanti, dice La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico dalla nazione. A questo articolo è stato aggiunto tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Questo punto è meraviglioso perché da solo è rivoluzionario. È la prima Costituzione, credo, al mondo che introduce gli interessi delle future generazioni. Ma noi come umanità a cosa dobbiamo puntare se non a conservare quello che abbiamo ricevuto e poterlo trasmettere alle future generazioni? È rivoluzionario applicare questo articolo, se solo ce ne rendessimo conto. L'articolo 41 è ancora più interessante. L'iniziativa economica privata è libera, dice l'articolo 41. Ed è vero, è libera. Però aggiunge, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. A quest'articolo è stato aggiunto, non può svolgersi in modo da arrecare danno alla salute e all'ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possono essere indirizzate e coordinate a fini sociali. ed è stato aggiunto ambientali. Allora, il combinato disposto di questi due articoli dà già una rivoluzione dal punto di vista economico, sociale, della tutela delle persone, della tutela dei diritti, che è straordinario. Noi non abbiamo bisogno di modificare niente della Costituzione perché semplicemente l'introduzione di questi due articoli rende incostituzionali tante e tante di quelle attività che invece vengono svolte normalmente. È interessante, volevo semplicemente aggiungere, che se voi leggete gli atti propedeutici della Camera e del Senato che sono serviti a definire queste modifiche su questi due articoli, gli atti propedeutici sono spesso sentenze della Corte Costituzionale ed in particolare una di queste che ha fatto un po' da perno per la modifica dell'articolo 41 e quella che riguarda la sentenza 58 del 2018 dell'ILVA, sull'ILVA. Perché sull'ILVA? Cioè sulla sicurezza, sulla salute e sul posto di lavoro c'erano state una serie di sentenze e anche di legislazioni che rendevano preeminente l'interesse al mantenimento dei livelli occupazionali, tutelare tutte le cose che sappiamo che, diciamo, in contrapposizione invece al diritto di tutelare l'ambiente e la salute dei lavoratori è l'habitat umano come contesto generale. Infatti in questa sentenza, diciamo, si dava per scontato, per implicito, il rispetto e la tutela dell'ambiente e che questo fosse di interesse pubblico fondamentale è, come dire, considerando il combinato disposto degli articoli 2, 3, 9, 41 e 42 perché tutti insieme, diciamo, mettevano l'ambiente al centro, l'ambiente e la salute al centro della convivenza civile, diciamo, dello sviluppo di questo Paese, cosa che invece, diciamo, non è venuta. Per cui, per chiudere, chiudo veramente, credo che per l'ennesima volta ci troviamo a difendere la Costituzione e ci toccherà farlo rimboccandoci le mani, ma tenendo come principi fondamentali quelli, diciamo, che la Costituzione già decanta in maniera meravigliosa. Grazie. Grazie, grazie mille Antonella. Questo esempio della modifica degli articoli 9 e 41 è un esempio che dimostra come chi difende la Costituzione non difende l'immobilismo, non difende il fatto che la Costituzione non si possa toccare. Il punto è che la Costituzione si deve toccare nello spirito costituzionale e non travolgendo e stravolgendo lo spirito costituzionale. Come giustamente sottolineava Antonella, è chiaro che la Costituzione è stata scritta in un preciso momento storico in cui i padri e le madri costituenti, fatemi ricordare, le madri costituenti che in Assemblea Costituente svolsero un ruolo fondamentale e di cui parliamo nel volume con un saggio di Marilisa D'Amico, non potevano immaginare la situazione drammatica in cui ci troviamo oggi. Ci sono tante parti della Costituzione che usano delle parole che oggi non useremo, sono tante cose. Quello che conta è lo spirito della Costituzione e queste modifiche non sono, come dire, pura forma che rimane lì, perché sono strumenti, si traducono in strumenti che si possono utilizzare nelle battaglie sociali e civili, ma anche nei tribunali. Ci sono già molte iniziative di gruppi ambientalistiche e come spesso accade anche in altri settori è possibile che sia proprio nelle aule giudiziarie che inizieranno ad arrivare le prime svolte in questo senso. Su questa questione ambientale fatemi semplicemente questa piccolissima chiosa. La narrazione, la retorica che si usa per parlare di questo tema è una retorica che di solito funziona così. La transizione ecologica ormai, diciamo, i negazionisti, quelli duri e puri, diciamo, non ci sono più in... Sì, ma insomma, almeno non lo dicono così platealmente pubblicamente, no? Insomma, tutti dicono va bene, sta transizione ecologica d'accordo, la dobbiamo fare, no? Però la retorica è però costa, però deve essere sostenibile, non si capisce bene per che cosa, e si parla sempre di questa transizione ecologica che dobbiamo fare per ragioni anche etiche, politiche, eccetera, ma ha un costo. Bene, quello di cui non si parla mai sono i costi di non farla questa transizione, costi che stiamo già pagando, che stiamo già pagando oggi. In Spagna, in Catalogna, c'è una situazione di siccità drammatica mai vista negli scorsi anni, non parlo della Sicilia perché la conoscete meglio di me, anche se anch'io sono siciliana, ma infatti tra tanti motivi di orgoglio di questa serata c'è anche questo, ma sono via anche da tanto tempo. Quindi non si parla mai dei costi di non farla questa transizione ed è questa retorica che noi dobbiamo anche ribaltare e lo proviamo a fare anche noi nel nostro volume di questo tema scrive Telmo Pievani. Do adesso la parola a Claudio Claudio Riolo politologo ha insegnato a lungo qui all'Università di Palermo si è occupato di questioni meridionali di politiche pubbliche nell'ambito della trasformazione urbana di trasformazioni del sistema politico nazionale e locale di riforme istituzionali e quindi mi sa che ci parlerà parecchio di questi aspetti e soprattutto il fondatore del laboratorio per la difesa e l'attuazione della Costituzione che è la realtà con cui abbiamo organizzato questa presentazione e colgo questa occasione per ringraziare sia il laboratorio sia le nuove officine ZISA che ci ospitano. A te la parola Claudio. Dunque permetto che naturalmente siamo stati molto contenti di collaborare per presentare questo numero di micromega anche perché diciamo questo numero di micromega si inseriva pienamente nel percorso che come penso almeno una parte di voi sapete era cominciato lo scorso 25 aprile quando scendendo in piazza con Lampi con la CGL con l'Arci qui a Palermo un gruppo di cittadini non iscritti più diciamo con un passato politico ma non iscritti più ad alcun partito hanno appunto fatto un appello per la difesa e l'attuazione della Costituzione e poi proprio in questa sala ci siamo visti il 9 giugno quando abbiamo fatto una prima assemblea cittadina per discutere di quell'appello e da lì emana questo laboratorio che è una cosa molto modesta diciamo appunto è emanazione di questo appello che ha raccolto centinaia di firme di questo gruppo promotore e si pone fondamentalmente il problema di essere da stimolo da facilitatore della risposta a questo disegno di stravolgimento della Costituzione che naturalmente proviene dal governo attual che ha vinto alle scorse elezioni però devo dire che rispetto ad allora sono successi dei fatti nuovi è un fatto molto importante che io lo voglio qui sottolineare perché è un fatto che secondo me è stato ampiamente trascurato sul piano dell'opinione pubblica e anche nella stessa sinistra c'è una certa disattenzione rispetto a un fatto che a mio parere rappresenta un salto di qualità e cioè l'ascesa in campo della CGL io voglio dire al di là diciamo delle cose non è che nella mia vita io non sono mai stato iscritto alla CGL e anzi nel passato quando militavo nella sinistra qui a Palermo ho avuto anche diciamo delle polemiche delle battaglie politiche con l'allora direzione della della CGL locale eccetera e quindi diciamo non sono sospetto di voler fare come dire pubblicità alla CGL e però voglio dire c'è un fatto secondo me importante e straordinario perché questa scesa in campo della CGL con un'apertura reale significativa al meglio del mondo dell'associazionismo italiano 100 associazioni nazionali tra le più importanti non le sto qui a citare oltre quelle che ho già citato perché poi appunto potrei fare non citarne alcune e quindi fare degli errori quindi diciamo il meglio dell'associazionismo che esiste in Italia e hanno concordato una piattaforma che è questa piattaforma della via maestra che articola la costituzione in modo molto concreto ed è proprio una piattaforma di lotta di mobilitazione che si inserisce nel percorso del sindacato e nel percorso di queste associazioni e sull'onda di questa cosa si è fatta una manifestazione il 7 ottobre già lo ricordava Laura a Roma che è stata una delle più grandi manifestazioni degli ultimi anni si è detto allora di 200.000 persone la cosa sicura è che la gente non entrava in piazza San Giovanni è rimasta fuori da piazza San Giovanni e non era un'iniziativa appunto così isolata ma ha avviato un percorso in cui molto seriamente appunto sempre prima Laura ricordava ci sono state queste riunioni nazionali della via maestra e concretamente partiranno al più presto una serie di campagne molto concrete attraverso una mobilitazione di massa cioè la cosa secondaria quando noi abbiamo cominciato a fare queste iniziative qui eravamo appunto un gruppo prevalentemente un gruppo intellettuale di insegnanti di 200 universitari insomma ma l'ascesa in campo della CGL significa che invece noi possiamo concretamente fare questa battaglia mobilitando diciamo il popolo italiano questa cosa è passata quella grande manifestazione purtroppo ha avuto una data molto sciagurata il 7 ottobre per cui l'indomani tutti parlavano ovviamente di quello che è successo in Israele e non si è parlato della importanza di questa di questa grande manifestazione ma ripeto è un elemento importantissimo dove si coniuga e questo è molto importante si coniuga l'elemento della difesa della costituzione con l'elemento dell'attuazione della costituzione questo è un passaggio importante perché noi non stiamo facendo quello che pur abbiamo già fatto in passato tante volte delle mobilitazioni per tentare di bloccare i tentativi di stravolgimento della costituzione già ne abbiamo diversi alle spalle diciamo basterebbe citare la bicamerale che per fortuna non ha avuto nessun esito la famosa bicamerale di D'Alema e Berlusconi che poi saltò grazie a Berlusconi che fece saltare il tavolo se no forse oggi già ci troveremmo il semipresenzialismo in Italia poi il tentativo di Renzi che è stato ampiamente respinto però diciamo non ci troviamo solo appunto a dire attenzione attrezziamoci per i probabili anche se questo naturalmente lo dobbiamo fare ed è importante che lo si faccia ed è un punto di partenza importante attrezziamoci per bloccare i probabilissimi referendum che avremo di fronte quello sull'elezione diretta del premier il cosiddetto premierato e poi già a ruota alle spalle già è stato ampiamente annunciato quello sulla separazione delle carriere dei magistrati questo questo perché appunto noi ci siamo trovati l'abbiamo detto subito abbiamo diciamo un delle forze al governo che sono culturalmente estrane a questa costituzione ci stanno strette dentro questa costituzione è vero che già lo ricorda per esempio nel suo saggio Roberto Scarpinato storicamente anche nell'introduzione di Paolo Forse d'Arcais si ricorda appunto come la resistenza a questa costituzione c'è stata fin da quando la costituzione è stata attuata implementata varata e poi implementata molto parzialmente questo dobbiamo dirlo eccetera ma in questi in questi ultimi invece tentativi in questi ultimi anni diciamo a partire dai primi anni 90 in poi l'attacco alla costituzione che ha visto come protagoniste devo dire con un buon contributo della sinistra che si è fatta male da sola e ha arato questo terreno ma ha visto uno scontro molto duro con tutto il berlusconismo fino ad arrivare all'attuale governo in carica queste tre forze dicevo sono strane storicamente strane alla costituzione non è un elemento diciamo offensivo è una constatazione chiaramente diciamo è fratelli d'italia è strane alla costituzione e anzi tradizionalmente per la sua lontana eredità e comunque nel suo programma c'è sempre stata diciamo il presidenzialismo la lega le leghe sono nate negli anni ottanta poi negli anni novanta si sono rafforzate si è unificata le varie leghe che c'erano nel territorio italiano eccetera ed erano secessioniste e quindi oggi si identificano molto nell'idea di questo secessionismo morbido che viene prefigurato attraverso appunto il disegno di autonomia differenziata e infine naturalmente la forza di abbiamo detto la lega ecco forza Italia che il cui problema identitario è sempre stato proprio perché forza Italia rappresenta in qualche modo il rapporto dell'economia con la politica quindi in qualche modo emblematicamente ha rappresentato la tendenza mondiale della prevalenza del fattore economico delle grandi multinazionali eccetera sugli stati e sulle costituzioni sul politico come si usa come si usa dire in senso filosofico sulla dimensione della politica la dimensione dell'economia che tende a prevalere è sempre rappresentato questo e in particolare poi nella sua incarnazione italiana si è caratterizzato come punto identitario con la battaglia per subordinare la magistratura alla alla politica ecco che appunto come sappiamo queste tre forti identità questi forzi tre obiettivi identitari attraverso anche uno scambio e una sinergia tra queste tre forze oggi rappresentano il cuore di questo stravolgimento della costituzione io nel poco tempo che ho mi vorrei soltanto soffermare rapidamente sul punto su quello che la Meloni chiama la madre di tutte le riforme e cioè l'elezione diretta del capo del governo del cosiddetto premierato allora come sapete sono quattro semplici articoli in cui a parte uno in cui si si abroga la nomina dei senatori a vita un altro in cui si abroga un dato che in realtà era ormai obsoleto dal 1963 la possibilità del presidente della repubblica di sciogliere una sola camera che aveva un senso l'articolo 88 della costituzione che aveva un senso quando le due camere avevano una durata diversa ma chiaramente è un elemento soleto ma il cuore naturalmente sono le modifiche dell'articolo 92 e dell'articolo 94 della costituzione la proposta Meloni casellati apro una parentesi contrariamente a quello che si dice la Meloni ci ha messo la faccia fino in fondo perché porta il suo nome allora si era detto non farà l'errore di Renzi non mi sembra mi sembra che lei si è molto spinta su questa cosa ma ci torno poi un attimo dopo su questo quindi questo l'articolo 92 praticamente si sostituisce l'articolo 92 l'articolo 92 il nuovo articolo prevede l'elezione diretta del presidente del consiglio contestuale con l'elezione del Parlamento più l'inserimento in costituzione di un sistema elettorale premiale che dà quindi maggioritario nella logica maggioritaria che addirittura arriva a dare il 55% a chi vince le elezioni cioè una cifra assolutamente abnorme sballata anticostituzionale ed è un punto che molto probabilmente non reggerà nonostante e poi soprattutto e non soprattutto e conseguentemente riduce fortemente il ruolo del presidente della repubblica in quanto appunto il compito che avrebbe il presidente della repubblica sarebbe quello di conferire l'incarico al presidente del consiglio ma non può fare altrimenti perché è quello eletto quindi non c'è alcuna discrezionalità su questa cosa e nomina i ministri che però sono scelti proposti sempre dal presidente del consiglio quindi sarebbe un ruolo puramente formale quindi toglie delle prerogative sostanziali al presidente del consiglio e infatti non a caso questo elemento dalla stragrande maggioranza dei costituzionalisti anche di costituzionalisti di aria moderata e certe volte che lambiscono la stessa maggioranza hanno chiaramente detto che non stai in piedi e che questo comporta un forte squilibrio tra i poteri tra la divisione dei poteri legislativo l'esecutivo e vedremo anche il giudiziario crea in qualche modo un sistema bicefalo tra presidente del consiglio e presidente della repubblica dove però il presidente del consiglio è molto più forte perché naturalmente ha alle sue spalle l'elezione diretta popolare e questo però nonostante questo ciò potrebbe anche comportare una conflittualità tra le due figure e se ci fosse una conflittualità non ci sarebbe chi le dirime quindi è anche un elemento di scompenso mentre oggi invece il presidente della repubblica ha un ruolo di garanzia importante e quindi anche se vogliamo di mediazione di mediazione eccetera questo ruolo verrebbe fortemente sminuito e poi non parliamo del fatto già di il fatto già di inserire la legge elettorale dentro è una novità assoluta ma con questo premio di maggioranza che ricorda la legge acerbo diciamo come si dice anche in uno dei saggi presenti in questo volume il secondo articolo cioè la seconda modifica riguarda l'articolo 94 di cui sostituisce il terzo comma e ne aggiunge un quarto nel quarto articolo si dice che praticamente se il governo non ottiene la fiducia perché in questa riforma è previsto che il presidente del consiglio forma il governo con quelle formalità di cui si diceva prima e poi si presenta alle camere per chiedere la fiducia se non dovesse ottenere la fiducia il presidente della repubblica è obbligato a rinnovare una seconda volta l'incarico e dargli praticamente non ha in questo senso una discrezionalità a meno che il presidente del consiglio decida diciamo di dimettersi e basta ma invece deve dargli di nuovo un incarico parliamo sempre del presidente del consiglio eletto cioè automaticamente gli deve dare l'incarico per fare un secondo tentativo e fin qui va bene dopodiché se per caso il presidente del consiglio eletto direttamente dal popolo non ottiene la fiducia nemmeno in questo secondo tentativo a quel punto il presidente sembrerebbe avere la discrezionalità di poter sciogliere le camere oppure di dare un altro incarico un secondo incarico sempre allo stesso cioè sempre una barzelletta e se non fosse una cosa drammatica è scritto è una barzelletta ma è una barzelletta tragicomica può dare l'incarico o sempre la terza volta ma sarebbe un secondo incarico la terza volta al presidente del consiglio eletto direttamente dal popolo oppure e qui la fantasia diciamo supera diciamo se stessa può darlo invece ad un parlamentare non eletto direttamente dal popolo come presidente del consiglio eletto dentro una delle due camere del parlamentare ad un parlamentare che faccia parte della stessa maggioranza e che si impegna poi la vorremmo vedere c'è scritto nell'articolo eccetera che però deve portare avanti la stessa lo stesso indirizzo politico e lo stesso programma del presidente del consiglio eletto una cosa diciamo è chiaro diciamo che questo disegno ripeto che se non fosse tragico sarebbe veramente anche ridicolo per come diciamo è un poco è stato costruito arriva diciamo sostanzialmente a a mettere in atto la possibilità che il secondo premier perché ecco se il secondo premier invece non ottiene la fiducia a quel punto si scioglie il parlamento quindi sostanzialmente il secondo premier ha più poteri del primo direttamente eletto perché il primo non può sciogliere il parlamento nel senso che anche se si dimette il capo dello stato può fare una serie di altri tentativi questo se questo appena si dimette infatti di fatto si scioglie il parlamento quindi siamo a una diciamo siamo davvero alla follia e e concludo praticamente dicendo che cosa dicendo questo non è un progetto serio ma noi dobbiamo prendere molto sul serio il governo Meloni e molto sul serio la Meloni quando dice che questa è la madre di tutte le riforme che per noi deve diventare la madre di tutte le battaglie grazie 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 Claudio che ci ha descritto questo pasticcio di fatto che si sta consumando e che manda all'ortiche uno dei cuori dei principi cruciali fondamentali della nostra Costituzione che è la centralità del Parlamento centralità del Parlamento che è stata messa in discussione da tanti da tanti anni in molti modi e che noi nel nostro volume cerchiamo di ribadire anche con una mi piace citare un passaggio dell'intervento di Gustavo Zagrebelsky in questo volume che dice una cosa interessante a cui non avevo pensato con attenzione neanche io si dice molto spesso quando ci sono le elezioni chi ha vinto chi ha vinto le elezioni ecco Gustavo Zagrebelsky dice questa è una domanda priva di senso rispetto a come è la nostra impostata il nostro sistema costituzionale parlamentare perché le elezioni non sono una gara non sono una partita sportiva in cui c'è qualcuno che vince o che perde le elezioni sono lo strumento attraverso il quale la volontà popolare si articola nelle sue espressioni parlamentari quindi la domanda è non chi ha vinto chi ha perso ma la domanda è che Parlamento esce fuori da queste elezioni come si rispecchia la volontà popolare dentro questo nuovo Parlamento in queste elezioni e invece a noi interessa esclusivamente questa traduzione è un po' banale del chi ha vinto e chi ha perso sembrano sottigliezze ma sono invece il cuore della nostra della nostra convivenza democratica tra l'altro oltre a non esserci la centralità del Parlamento in questa riforma mi pare di capire non c'è neanche quella del popolo alla fine che elegge uno che poi di fatto non è neanche quello che alla fine governerà davvero visti i passaggi che ci ha appena descritto Claudio bene veniamo all'ultimo intervento di questa sera come si dice in questi casi Roberto Scarpinato non ha bisogno di presentazioni ma è vero meno che mai ne ha bisogno in questa città naturalmente Roberto Scarpinato è un grandissimo amico di Micromega da tantissimi anni io veramente lo voglio ringraziare di cuore per essere sempre stato vicino alla rivista e per continuare a esserlo anche in momenti non facilissimi per la vita della nostra rivista quindi davvero grazie al dottor Scarpinato lo conoscete ma due parole le dico ex magistrato oggi è senatore della Repubblica è stato procuratore generale presso la Corte d'Appello di Palermo membro della Direzione Distrettuale Antimafia procuratore generale presso la Corte d'Appello di Caltanissetta ha fatto parte del pool antimafia di Falcone e Borsellino e ha condotto alcune delle più importanti inchieste di mafia di questo paese Roberto Scarpinato a lei la parola dobbiamo prendere atto che ci troviamo in un tempo della storia drammatico nel quale è tutto in gioco tutto rischia di essere perduto con un'accelerazione senza precedenti un tempo della storia che potremmo definire il tempo della rivincita dei nemici della Costituzione di un regolamento finale di conti tra due Italie che si sono scontrate durante tutto l'arco della vita repubblicana proprio a causa intorno all'attuazione della Costituzione chi sono i nemici della Costituzione in genere le Costituzioni dei popoli non hanno nemici o almeno non le hanno per tanto tempo così a lungo e così accaniti perché riflettono le culture di base i valori di fondo della popolazione in Italia non è mai stato così in Italia purtroppo la Costituzione emanata nel 1948 per fondare il nuovo Stato repubblicano dopo l'accaduto del fascismo sin dall'inizio e per tutto il corso della sua vita non è stata condivisa da parti rilevanti delle classi dirigenti di questo paese dei ceti dominanti nazionali che l'hanno subita l'hanno osteggiata e in alcuni momenti hanno cercato di rovesciarla con la violenza ma perché questa Costituzione è stata così osteggiata e credo che dobbiamo ritornare indietro nella storia per capire com'è nata nasce alla fine la seconda guerra mondiale quanto ancora si trascinano le conseguenze della guerra civile tra due Italia l'Italia che aveva sostenuto il fascismo e l'Italia che l'aveva combattuto la dittatura fascista non era stata come diceva Benedetto Croce un impazzimento collettivo degli italiani no era stata come diceva Gobetti l'autobiografia di una nazione il fascismo era arrivato al potere era stato sostenuto dalle componenti maggioritari dei poteri forti dell'Italia del tempo la monarchia l'aristocrazia sabbauda il Vaticano gli agrari del nord i latifondisti del sud la grande industria e inoltre per tanti anni aveva avuto l'adesione di massa degli italiani nell'elezione del 1924 il partito fascista aveva vinto col 65% di voti 4 milioni e mezzo contro tutti gli altri partiti che insieme hanno fatto 2 milioni e mezzo l'adesione popolare al fascismo aveva cominciato lentamente a scemare seguito della legge razziale e soprattutto a causa delle conseguenze economiche delle entrate in guerra di Mussolini tuttavia la dittatura fascista era rimasta saldamente al potere e non era crollata per fattori interni ma per fattori esterni il fascismo entra in agonia a seguito dello sbarco degli alleati in Sicilia a cui si uniscono gli uomini alla resistenza e crolla definitivamente dopo la sconfitta della seconda guerra mondiale dopo la caduta del regime la maggioranza del paese era senza una guida in questa fase magmatica della storia si apre così un voto di potere anzi diciamo che c'è una sospensione del reale rapporto di forza del tempo di allora e si verifica una parentesi nella quale i vecchi poteri sono allo sbando seguono il corso degli eventi cercano di orientarsi e in questo vuoto di potere assumono temporaneamente la guida del paese gli uomini della resistenza che sono una minoranza gli storici hanno attestato che al massimo la sua massima espansione con resistenza raggiunsero i 150.000 uomini quelli che erano andati all'estero per salvarsi dal confino dall'arresto quelli che erano usciti di prigione quelli che erano ritornati al confino tra di essi erano gli uomini migliori della cultura liberale del riformismo cattolico del socialismo del partito azionista il partito comunista il cui pensiero era stato rivisitato da Gramsci ma una minoranza questi uomini questa minoranza confluisce nel comitato di liberazione nazionale e partecipano praticamente alla formazione del comitato del 75 che poi scrive la costituzione i componenti del comitato del 75 sono un'aristocrazia etica diciamo così il paese molto più avanti dall'identità culturale delle classi dirigenti delle masse italiane l'Italia degli anni 40 del secolo scorso era un paese arretrato provinciale il tasso di analfabetismo era del 20% nelle isole arrivava all'80% contro l'1% la Germania dell'Inghilterra il 3% degli Stati Uniti e il 4% della Francia se si pone a confronto l'Italia disegnata la costituzione con l'Italia reale c'è un abisso ma da dove viene questa costituzione la costituzione superò noi stessi la nostra storia andò molto al di là delle culture base nazionali fu un gettare il cuore oltre l'ostacolo e proporsi di raggiungere la costruzione di un paese che in realtà non esisteva e che doveva essere costruito ciò posto i padri costituenti pur nella diversità delle loro culture cattolici riformisti socialisti comunisti su un punto era uno d'accordo il rifiuto del fascismo è costruire una costituzione che impedisse che il fascismo ritornasse e quindi per questo motivo proprio perché bisognava impedire che il fascismo ritornasse in un paese qual era l'Italia da allora con la maggioranza che aveva inneggiato al fascismo sino a poco tempo prima come la costruiamo questa costituzione e quindi tutti gli anticorpi per evitare che il passato ritorni se il fascismo aveva concepito e organizzato lo Stato come una piramide al cui vertice si concentravano tutti i poteri la cosiddetta teoria monistica del potere la costituzione costituisce il nuovo Stato repubblicano esattamente l'opposto il potere deve essere diviso l'esperienza del fascismo aveva dimostrato quale degenerazione può portare la concentrazione di tutti i poteri in un vertice il potere deve essere spacchettato deve essere diviso in più poteri che si controllano tra di loro secondo una legge fondamentale soltanto il potere può controllare il potere se il fascismo era arrivato al potere alimentando il disprezzo per il Parlamento rappresentato alla pubblica opinione come luogo di estenuanti mediazioni di lungaggini che ostacolavano il decisionismo del governo i costituenti all'opposto mettono il Parlamento al centro dell'organizzazione dello Stato in quanto espressione diretta della sovranità popolare che legittima il comando un Parlamento eletto con legge proporzionale in modo da garantire anche alle minoranze una rappresentanza se il fascismo proseguendo la tradizione dello Stato monarchico aveva concepito la magistratura come un ordine che doveva essere controllato dal potere politico e per questo motivo aveva previsto che il pubblico ministero l'organo che esercita l'azione penale doveva essere sottoposto al controllo del ministro della giustizia i padri costituenti vanno nella direzione esattamente opposta e statuisco la totale indipendenza dall'amministratura ad ogni potere su questo versante la costituzione italiana è la più avanzata al mondo mentre le altre costituzioni prevedono soltanto l'indipendenza dei giudici la costituzione italiana è stente le garanzie di indipendenza anche ai pubblici ministeri giudici e pubblici ministeri appartengono alla stessa carriera i costituenti avevano sperimentato durante il fascismo e prima ancora durante la monarchia che mediante il controllo dei pubblici ministeri il governo era in grado di condizionare i giudici sono i pubblici ministeri infatti che esercitano l'azione penale che raccolgono le prove che selezionano i casi sui quali i giudici devono poi decidere tramite il controllo dei pubblici ministeri il fascismo aveva garantito l'impunità di squadristi picchiatori assassini di potenti gerarchi corrotti e aveva perseguitato con condanne pilotate i dissidenti politici incarcerati o mandati al confino tra i quali alcuni dei padri costituenti che proprio per questo motivo avevano una particolare sensibilità per l'indipendenza della magistratura perché avevano sperimentato sulla loro pelle cosa significava una magistratura condizionata al potere politico ed è proprio grazie alle complesse garanzie costituzionali per la magistratura prevista alla Costituzione che in Italia abbiamo avuto la possibilità di avere magistrati come Falcone come Borsellino come Rocco Chinnici Gaetano Costa Maria Navanto Vittorio Corso e tanti altri che non posso ricordare i quali hanno potuto compiere il proprio dovere non solo per le loro qualità umane e professionali ma anche soprattutto perché avevano le spalle coperte da una Costituzione che gli garantiva l'indipendenza nei confronti del potere politico e che quindi hanno avuto la possibilità che in altri paesi non hanno avuto di esercitare il controllo e la legalità anche nei confronti di tanti colletti bianchi e vertici della piramide sociale prima considerate degli intoccabili complici eccellenti mafiosi mandanti e complici distragisti e tanti sepolcri biancati che si sono arricchiti col denaro pubblico contro questi magistrati e contro questa parte della magistratura fedele alla Costituzione il mondo del potere ha scatenato dalla fine degli anni 70 nel secolo scorso una guerra senza quartiere con procedimenti disciplinari penalizzazioni di carriere incessanti tentativi di delegittimazione che durano sì nei nostri giorni e che in questi mesi dopo il governo del centro-est ha vinto l'elezione hanno avuto una grande ripresa con una imponente batteria di proposte di legge che hanno tutto e un unico comune denominatore in tutti i modi compromettere e imbrigliare l'indipendenza dei magistrati e ricondurli sotto il controllo del potere politico le componenti più reazionari e violenti del mondo del potere non sono riuscite a fermare Falcone Borsellino a Manta e a tanti altri mentre erano in vita proprio grazie alle garanzie di indipendenza garantite alla Costituzione sono stati costretti a ucciderli per fermarli ora si vuole uccidere ed evitalizzare la Costituzione nella parte che garantisce l'indipendenza e la magistratura e riportare indietro l'orologio della storia a bei tempi piantati nei quali il potere teneva sotto il proprio tallore alla magistratura e si vuole raggiungere questo risultato senza dichiararle in pubblico ma spacciando queste riforme come riforme tecniche che servono semplicemente a migliorare il funzionamento del sistema di giustizia vogliono separare le carriere dei giudici e quelle ai pubblici ministeri in modo da riservare soltanto ai giudici le garanzie di indipendenza e toglierle ai pubblici ministeri vogliono abolire l'articolo 112 della Costituzione che stabilisce che l'azione penale è obbligatoria cioè il pubblico ministero non può scegliere quali processi fare e quali non fare perché diventa un'attività di carattere politico e la garanzia di obbligatorietà e l'azione penale è garanzia di indipendenza dei cittadini di anzio della legge vogliono attribuire e lo stanno già facendo alle maggioranze politiche il potere di stabilire quali processi fare prima e quali fare dopo e secondo voi qual è che si faranno dopo naturalmente a quelli contro la pubblica amministrazione che non considerano reati prioritari fare dopo non fare mai perché con le risorse che ci sono se ne possono fare soltanto alcuni processi non tutti vogliono uccidere l'indipendenza della magistratura modificando l'articolo 104 della Costituzione che prevede come è composto il consiglio superiore della magistratura l'ordine di codi governo la Costituzione prevede che è composto per due terzi da magistrati e un terzo da persone personaggi indicati dal Parlamento no vogliono cambiare questa proporzione 50 politici e 50 magistrati chiudo questa breve parentesi sull'attualità e riporto subito il discorso alla fase storica in cui la Costituzione fu emanata e i motivi per cui ebbe subito tanti nemici l'impianto antifascista della Costituzione non riguardava soltanto l'organizzazione del potere dello Stato ma anche il sistema dei valori su cui si fondava il nuovo patto sociale di convivenza se l'ideologia fascista era stata anti-egualitaria gli uomini sono superiori alle donne i fascisti sono superiori agli antifascisti agli afascisti italiani sono superiori agli ebrei e via dicendo la Costituzione invece si imperna sul valore delle guaglianze di tutti i cittadini di ansia della legge l'articolo 3 della Costituzione se il fascismo esaltava l'uso della forza come strumento di selezione sociale nella quale era giusto che più forti prevalessero sui più deboli che deboli soccompessero come in una sorta di replica sociale della selezione darwiniana della specie se i suoi economisti di grigo come Maffeo Pantaleone asserivano che gli appartenenti alle classi inferiori erano più poveri perché erano meno intelligenti degli appartenenti alle classi superiori la Costituzione al contrario esaltava il valore della solidarietà sociale e metteva la forza dello Stato al servizio dei più fragili dei più deboli stabilendo che era compito della Repubblica rimuovere l'ingiustizia sociale come dice l'articolo 3 è compito della Repubblica rimuovere l'ingiustizia sociale in sostanza con quest'articolo 3 la Costituzione dava atto che l'Italia del tempo era una società ingiusta perché esistevano ostacoli di ordine economico e sociale che limitavano di fatto la libertà e le guaglianze cittativi e impegnava la Repubblica a rimuovere questi ostacoli questo programma di rimuovere progressiva degli ostacoli che impedivano le guaglianze cittadini viene vissuto già nei primi anni del dopoguerra come una minaccia da parte dei poteri forti e dei centri sociali che in precedenza avevano sostenuto il fascismo e che incarnavano con i loro privilegi gli ostacoli di ordine economico e sociale che la Costituzione si impegnava a rimuovere e quali erano questi ostacoli nell'Italia contadina del tempo un ostacolo grandissimo era la concentrazione della proprietà terriera nelle mani di pochi grandi latifondisti gli agrari del nord latifondisti del sud che imponevano condizioni di sfruttamento quasi feudale a masse di milioni di contadini l'abolizione dei latifondi la riforma agraria la redistribuzione delle terre sarà una delle prime grandi battaglie democratiche sulla base della Costituzione che accenderà i fuochi del conflitto intorno alla riforma agraria prevista l'articolo 44 della Costituzione si scatena l'inferno le forze reazionarie non solo fanno in modo di fare fallire la riforma agraria ma ricorreranno a stragi e omicidi per impedire ai contadini di ottenere la riforma agraria e per dare un segnale ai padri della Costituzione la nascita della Repubblica come tutti ricorderete viene tenuta battesimo da una strage politico mafiosa la strage di Portella la Ginesta del primo maggio 1947 che segna l'inizio della strategia dell'attenzione e che è un segnale per il mondo contadino ma che assume un segnale politico nazionale il 20 e il 21 aprile del 1947 si erano svolte le elezioni regionali in Sicilia si era verificato un fatto eclatante che nessuno si aspettava perché per 20 anni non c'erano state le elezioni l'unione delle sinistre il partito comunista il partito socialista avevano vinto le elezioni col 30% dei voti distanziando di 10 punti la democrazia cristiana che aveva ottenuto il 20% si era così creato il panico e se l'anno successivo che si dovevano svolgere le elezioni in campo nazionale si fosse replicato lo stesso successo quindi quella strage lancia un segnale dissuasivo e cosa accadrà se quello che è accaduto in Sicilia si dovesse replicare in campo nazionale dopo quella prima strage gli agrari i latifontisti faranno scendere in campi mafiosi che avevano sempre utilizzato come strumento d'ordine e faranno uccidere 45 sindacalisti del mondo contadino una mattanza che si protrae ininterrottamente dal 1944 al 1966 e che raggiunge il suo apice proprio negli anni successivi alla Costituzione i grandi latifontisti saranno per molti anni tra i più accesi nemici della Costituzione unitamente grandi industriali che si sentivano minacciati nei loro interessi dal programma costituzionale annunciato all'articolo 36 della Costituzione che contro i salari di fame degli operai del tempo sancive il diritto di ogni lavoratore a una retribuzione proporzionata alla quantità la qualità del lavoro e a garantire un'esistenza libera e dignitosa i grandi industriali si sentivano minacciati anche all'articolo 40 della Costituzione che garantiva il diritto di sciopero come strumento di conflitto sociale finalizzato a migliorare le condizioni di lavoro agli operai l'avversione alla Costituzione oltre che dai latifondisti ai grandi industriali viene condivisa da altri componenti del mondo del potere di allora banchieri armatori palazzinari vertici di apparati militari dopo la strage di Portello e la Ginestra e la mattanza del mondo contadino il linguaggio delle bombe lo stragismo la minaccia di colpi di Stato gli omicidi politici resteranno una costante di tutta la storia repubblicana tutte le volte che si prospetterà la possibilità di formare governi progressisti intenzionanti a dare attuazione alla Costituzione il secondo governo di centrosinistra che nel 1962 aveva data attuazione all'articolo 43 della Costituzione nazionalizzando l'energia elettrica e colpendo quindi interessi importanti gruppi imprenditoriali nel 1964 è costretto a rinunciare a ulteriori programmi riformatori di attuazione della Costituzione quando viene a conoscenza che altrimenti sarebbe stata attuazione a un colpo di Stato denominato il golpe solo predisposto dall'arma dei carabinieri con l'assenso del Presidente della Repubblica il piano accertato storicamente prevedeva il prelevamento e il rapido allontanamento di 731 persone considerate pericolose nel mondo della politica del sindacato e nel frattempo l'arma nei carabinieri avrebbe assunto il controllo dell'istituzione quel governo viene a conoscenza il colpo di Stato rinuncia a attuare la Costituzione in tutta con le sue parti il colpo di Stato rientra i progetti di colpo di Stato e lo stragismo vi sto ricordando queste cose perché non è che la battaglia contro la Costituzione è stata una battaglia pacifica che ha condotto solo alle armi parlamentari è stata una guerra i progetti di colpo di Stato e lo stragismo riprendono a pieno ritmo avendo una escalation impressionante con le stragi di Piazza Fontana a Milano nel dicembre 69 alla Questura di Milano nel maggio 73 a Piazza della Loggia a Brescia nel 74 quando quando nel luglio del 1969 inizia il dibattito parlamentare sulla legge che prevedeva l'introduzione dello Statuto dei Lavoratori che sarà approvata nel 1970 e che rappresentava il culmine e l'approvato di tutte le otto operai degli anni 60 è uno dei momenti più alti di attuazione della Costituzione nell'ambito dei numerosi nemici della costruzione un ruolo molto rilevante e ne parlo perché il tema è attuale mi sono reso conto che una parte dell'intelligenza di questo paese non conosce la storia del neofascismo perché è rimasta soltanto al fascismo tra i più grandi nemici della Costituzione ci sono stati i neofascisti si tratta di re e luci del fascismo della Repubblica di Salò che mai hanno accettato la nuova Costituzione che hanno percepito come la Costituzione dei vincitori imposta ai 20 e che in parte si erano già riciclati nel primo dopoguerra negli apparati di polizia dei servizi segreti dell'esercito e in parte avevano dato vita a formazioni politiche neofasciste variamente denominate ordine nuovo avanguardia nazionale ordine nero terza posizione fucine di formazione e di reclutamento di tanti soggetti che come è stato accertato a consentenze definitive hanno eseguito le stragi neofasciste che hanno insanguinato il nostro paese al fine di destabilizzare il nuovo ordine Costituzione e di creare le premesse per l'instaurazione di una Repubblica presidenziale di stampo autoritario e credo che sia bene ricordare che tra i più feroci nemici della Costituzione fondatore di Ordine Nuovo c'è stato Pino Raut che è figura di riferimento del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che non ha mai rinnegato a questa continuità culturale ma l'ha inserito nel pantheon delle sue figure di riferimento la stessa Giorgia Meloni che ha partecipato a manifestazione contro la sentenza emessa dalla Corte di Assisi di Bologna per la strage di Bologna insieme a Ciavardini uno dei soggetti condannato per quella strage quindi il passato che arriva sino ad oggi le sentenze e gli studi storici hanno consentito di accertare che dopo l'approvazione della Costituzione si è venuto a costituire in Italia una sorta di santa alleanza di un sistema criminale integrato tra queste tre forze i neofascisti di cui vi ho appena parlato e poi i circoli massonici variamente denominati di cui la P2 è solo l'esempio più famoso che erano il luogo di incontro e di regia politica delle comprendi più reazionari del sistema di potere italiano industriali armatori proprietari terrieri banchieri che come è stato accertato l'indagine hanno messo i soldi hanno finanziato gli stragisti e che volevano la Repubblica presidenziale e poi la terza componente oltre i neofascisti e i massoni la borghesia mafiosa o l'alta mafia che è sempre stato uno dei poteri forti nazionali e che non solo inaugura la storia repubblicana con la strage porto della ginesta ma poi partecipa al golpe borghese e i tentativi di golpe in 1974 e che chiude poi la storia della prima repubblica con le stragi del 92 e il 93 questo pool di forze reazionari di nemici della Costituzione questo sistema criminale integrato ha operato durante tutto il periodo della guerra fredda sino alla caduta del muro di Berlino con l'occulto sostegno esterno dei servizi segreti americani che consideravano queste forze come un anticorpo contro l'avvento le sinistre al potere il quadro che sto tracciando non è frutto di una ricostruzione dietrologica questo ci tengo a sottolinearlo ma è risultato ormai consolidato di tante indagini giudiziere e sentenze come quelle sulle stragi di Milano nel 69 di Blescia nel 74 nelle quali sono state identificati e condannati i neofascisti che operavano per conto dei servizi segreti italiani e americani come ad esempio Carlo Di Giglio ed altri e sono stati identificati anche gli agenti dei servizi segreti americani che erano i loro referenti i nemici della Costituzione sono i responsabili di quella che io da tempo ho definito l'anomalia italiana che ha caratterizzato tutta la storia italiana dopo guerra sino alla caduta del muro di Barlino e che anche oggi continua a socerne le sue tossine antidemocratiche e liberali la storia italiana presenta tratti di anomalie che la rendono completamente diversa da quelle di tutti gli altri paesi europei non c'è nessun paese europeo la cui storia è caratterizzata una sequenza così lunga e ininterrotta di stragi dall'inizio della storia repubblicana sino ad epoca recente abbiamo citato la strage di Portella Ginestra vi ricordo poco la strage di Piazza Fontana a Milano nel 69 la strage di Gioia Tauro del 1970 la strage di Peteano del 72 la strage di La Questura di Milano nel 73 la strage di Piazza della Loggia nel 74 la strage del Trenitali corso nel 74 la strage di Bogni nel 80 la strage del Rapida nel 904 nel 1984 e chiudiamo con le strage del 92 del 93 ve le ricordavate tutte queste strage è stata una guerra tutte queste strage hanno avuto un unico filo conduttore sono state espressione di una guerra civile a bassa intensità sotterranea condotta dalle componenti più reazionarie di questo paese contro il nuovo ordine costituzionale per impedire l'attuazione della Costituzione stragi progetti di colpi di Stato omicidi politici sono stati finalizzati a condizionare con il linguaggio delle bombe con l'intimidazione l'evoluzione democratica del paese impedire l'attuazione della Costituzione o peggio stravolgere questa Costituzione instaurando una Repubblica presidenziale di stampo autoritario e proprio per questo motivo si è trattato di stragi di Stato di potere caratterizzate tutte da depistaggi dalla prima della strage di Portella Ginestra fino all'ultima alle stragi politico-mafioso del 1992-93 che la retorica ufficiale ci vuole fare credere essere state ordite e seguite soltanto da personaggi come Rina nonostante i suoi tanti acerrimi e potenti nemici la Costituzione nel 1948 non è rimasta un libro dei sogni e in alcune sue parti fondamentali si è tradotto in diritto vivente costituendo un lievito per la nostra democrazia però è bene che ci ricordiamo che tutto questo non è avvenuto per un fisiologico e in dolore processo per una fisiologica dialettica politica mi è avvenuto grazie a conflitti sociali lo spargimento di sangue di centinaia di vittime e dobbiamo essere consapevoli che quella che sto provando a raccontarvi questa serie non è una storia del passato che si è felicemente conclusa anche se apprezzo di tanto sangue i nemici della costituzione sono ancora all'opera se prima non hanno esitato a ricorrere a stragi omicidi per sabotare questa costituzione per sovvertirla oggi vogliono raggiungere lo stesso risultato per via politica con metodi incruenti e sono decisi ora che hanno la forza politica a sbarazzarsi finalmente di questa costituzione che hanno sempre vissuto come un corpo estraneo e che non sopportano non la sopportano perché questa costituzione col suo sistema di divisione di bilanciamento dei poteri con l'indipendenza della magistratura col suo sistema di valori solidaristici e qualitari costituisce il principale ostacolo e i loro progetti di dare vita a una società completamente opposta a quella progettata dalla costituzione e cioè una società fondata sulla diseguaglianza sullo smantellamento progressivo dello stato sociale sulla privatizzazione di servizi pubblici essenziali come la sanità la scuola e su un'organizzazione piramidale del potere statale con l'attribuzione di tutte le leve del comando alle restette oligarchie che già concentrano nelle loro mani la ricchezza e il potere economico dopo la fine della guerra fredda la caduta del comunismo e dopo che la globalizzazione ha completamente mutato i rapporti di forza tra capitale e lavoro la costituzione è stata messa incessantemente al centro di un'attività aperta a delegittimazione culturale di manovre di svuotamento di decostituzionalizzazione strisciante di nuovi progetti di riforma la costituzione è stata definita vecchia comunista superata incentrata sul lavoro e non sull'impresa come se questo fosse uno scandalo la corte costituzionale è stata testualmente definita negli anni del berdurconismo un covo di comunisti perché aveva dichiarato in costituzionale una serie di leggi ad personam e ad personas e ancora pochi giorni fa il presidente della commissione affari e il senatore Zanettin ha accusato la corte costituzione di essere stata pervasa da furore anti-berlusconiano è stata realizzata un astresciante svuotamento della costituzione mediante una lunga serie di leggi che hanno smantellato i diritti e le tutele del lavoro dando vita al fenomeno di massa del lavoro povero e precario che ha ridotto un diritto di carta l'articolo 36 della costituzione è stato attuato un definanziamento costante dei servizi pubblici basilari dello stato sociale come la sanità al punto che migliaia e migliaia di persone non hanno più neanche il diritto fondamentale garantito la costituzione della salute e ora dopo la vittoria elettorale del 2022 il nuovo centro drest composto da forze politiche che sono gli eredi nelle forze politiche da sempre nevica la costituzione hanno deciso di sferrare un attacco alzo zero frontale definitivo alla costituzione vogliono cambiare la costituzione col premierato sostenendo quel suo impianto di repubblica parlamentare e il suo complesso sistema di bilanciamento dei poteri intralcia nei poteri decisionali e la rapidità dell'azione di governo e quindi vogliono ricreare lo stesso sistema a piramide dei tempi del fascismo un uomo o una donna solo al comando in cui tutti i poteri sono concentrati in un vertice un capo del governo che sostanzialmente avrebbe il potere di iniziativa legislativa e metterebbe sotto il suo tallone il Parlamento un Parlamento che si dovrebbe limitare a ratificare le leggi del capo del governo un capo del governo che tramite il controllo del pubblico ministero controllerebbe anche la magistratura un capo del governo che già oggi istituzionalmente controlla i servizi segreti un capo del governo che controlla il rai di Stato ed ecco che capite che si viene a costituire quella piramide contro cui era stata costruita la Costituzione e il fatto che si dà la parola ai cittadini della società popolare è una truffa perché tu sei cittadino per un giorno sei uno schiavo per cinque anni perché poi non puoi fare niente anzi per dieci anni anzi per quindici e non è affatto vero che sarebbe il trionfo della sovranità popolare pensate le ultime elezioni del 2022 i cittadini che avevano il diritto al voto erano 50 milioni il centrodestra ha vinto con circa 12 milioni che rappresentava il 43% di quelli che sono andati a votare ma c'è stata una percezione attuale di astensionismo più quelli che hanno votato scheda bianca del 40% quindi questo 43% se viene valutato sull'insieme di coloro che avevano il diritto al voto è il 25% degli italiani grazie alla nuova legge che vogliono fare col 25% rispetto a tutti i diritti avendo il voto hanno il 55% e con il 55% si prendono lo Stato il 25% diventa il 55% e si prendono lo Stato non soltanto il capo del governo ma anche il Presidente della Repubblica perché la nostra Costituzione prevede che dopo la terza votazione basta la maggioranza semplice e se hai il 55% ti prendi il Capo del Governo ti prende il Presidente della Repubblica e il Presidente della Repubblica nominano cinque giudici della Corte Costituzionale e gli altri giudici dopo le prime votazioni vengono scelti con delle maggioranze che sono raggiungibili e quindi poco a poco ti prendi tutto altro che non solo ma chi è che forma le liste per l'elezione gli stessi capi di partito che poi si candidano copo e capo al governo i cittadini sono stati espropriati sostanzialmente dal potere di scegliere i loro rappresentanti in Parlamento che è fatto di nominati dai capi di partito i quali se non sono fedeli e non baciano la mano non vengono ricandidati alle elezioni successive e qui concludo che cosa possiamo fare è stato detto e siamo d'accordo che la difesa della Costituzione diventa l'ultima spiaggia il terreno elettivo della nuova resistenza sino a quando questa Costituzione sarà in vita sapremo da dove ricominciare è come quando in un palazzo sfigurano la facciata battono i tramezzi ma i muri portanti restano se abbattono i muri portanti non ci sarà più una casa comune e la Costituzione non è soltanto una linea maggi no della resistenza democratica è anche il faro e la bussola che indica la direzione di marcia per il futuro dell'azione politica quando le forze progressiste si dividono alla ricerca della loro identità sul che fare ma accidenti c'è una Costituzione è lì che c'è scritto il meglio della nostra storia è lì che c'è scritto la società in cui vogliamo vivere questo è il momento in cui tutte le forze veramente progressiste dovrebbero fare della Costituzione la loro bandiera il loro vessillo per indicare anche l'orizzonte politico verso cui si vuole andare per indicare questa è la società che noi vogliamo costruire quella è la loro società si tratta di scegliere su questo salvare questa Costituzione significa quindi salvare la parte migliore della nostra storia e gettare un ponte per il futuro se io ho scelto di diventare senatore l'ho fatto esclusivamente per tutelare e difendere questa Costituzione così come avevo fatto da magistrato e credo che ciascuno di noi in questo tempo è chiamato a scendere a lottare perché se non lottiamo in questo momento tutti quelli che si sono fatti ammazzare per questa Costituzione avranno sacrificato la loro vita in mano e restituiremo questo Paese a quelli che questo Paese l'hanno distrutto grazie a tutti Grazie. Una standing ovation per la nostra Costituzione. Ringrazio tutti voi per essere stati con noi. A presto, ci vediamo nelle piazze a lottare in difesa e per l'attuazione della nostra Costituzione. Grazie.